Ragazzi buongiorno lo so è da un po' che stavate aspettando questo video Rieccoci con la rubrica mensile dove tengo traccia di tutti i miei investimenti passati e dei miei piani e progetti futuri Come sempre condivido tutte queste informazioni per avere una discussione costruttiva con voi Quindi qui sotto nei commenti lasciatemi tutti i vostri feedback Sono passati 5 mesi dall'ultimo aggiornamento e nonostante alcuni di voi pensino che io abbia perso tutto Certo non è stato un anno bellissimo ma sono ancora qua Ed oggi come sempre vi faccio vedere lo stato di tutti i miei investimenti e di miei portafogli E ci sono un bel po' di aggiornamenti dato che è passato un po' di tempo Perciò carta e penna ed iniziamo Comunque per chi fosse la prima puntata di questa rubrica io riordino i miei investimenti raggruppati per tipo E poi snocciolo questi investimenti in ordine di peso Da quello dove ho investito meno capitale a quello dove ho investito di più Per poi fare un commento e concludere con tutti i miei progetti futuri Ora in ordine di peso abbiamo peer to peer lending, mercato cripto e mercati finanziari Ah come sempre prima di iniziare vi ricordo che non sono un consulente finanziario Quindi prima di fare ogni spostamento fate le vostre opportune considerazioni Io vi voglio solo condividere la mia esperienza nella speranza che possiate trovare delle informazioni utili Perciò non scrivetemi su Instagram domande del tipo Mi consigli di investire con Moneyfarm? Perché non posso rispondervi Le mie risposte sono la condivisione delle mie esperienze in questi video Così vedete dati tangibili e potete fare le vostre considerazioni Ora tanto per cambiare dato che siamo già sull'argomento parliamo di Moneyfarm Per chi non sapesse di che parlo Moneyfarm è uno dei servizi di consulenza finanziaria indipendente Con la migliore reputazione e storia nel mercato italiano Che lavora anche con un'ottica di risparmio responsabile e sostenibile E così oggi si sono dimostrati se devo darvi un mio giudizio e rispondere con la mia esperienza alla domanda Tutto è andato liscio come l'olio dopo la mia prima consulenza a maggio dello scorso anno Dove insieme ad un consulente dedicato abbiamo capito e assestato la mia tolleranza al rischio Spoiler altissima dato che il mio orizzonte di investimento è molto lungo Abbiamo creato il mio portafoglio, questo che vedete ora, che da allora ha avuto dei picchi di rendimento sopra il 12% Ma che ora si trova in negativo del 5,74% Ed in realtà nonostante l'attuale negatività io devo dirmi soddisfatto Perché attualmente se guardiamo le performance dei mercati finanziari Prendendo come riferimento l'S&P 500 Lui si trova in negativo di più del 10% dal momento in cui inizia ad investire Poi sicuramente in futuro, nel momento in cui dovessimo trovarci a bucare nuovi massimi Va nuovamente fatto questo confronto L'importante però in periodi come questo è non andare in panico Non perdere la fiducia nei mercati e continuare con la strategia predefinita Affidandosi magari all'aiuto di un professionista se abbiamo dubbi Perché ci saranno sempre periodi alti e bassi Storicamente però a lungo andare, se guardiamo il grafico, stiamo crescendo Quindi nel mio caso non tocco nulla e continuo con il bonifico ricorrente di 500 sterline mensili Comunque una persona dovrebbe affidarsi a Moneyfarm Perché trova degli specialisti che con mestiere lo aiutano nella gestione dei suoi investimenti E che in periodi come questo possono essere le persone a cui parlare Se non capite cosa sta succedendo Magari nei prossimi mesi prendo un'altra consulenza sempre compresa nel loro servizio E andrò a vedere se si può migliorare qualcosa Ma ora, dato che tutto mi soddisfa, non faccio altro Ed è proprio a questo che dovrebbe servire il loro servizio In ogni caso, se volete approfondirli, ho avuto il piacere di entrare in una delle loro sedi E di intervistarli in questo video Poi come sempre, se siete interessati a provare il loro servizio Vi lascio qui sotto in descrizione il mio link invita a un amico Tramite il quale potete avere un bonus Comunque, io in questo video cerco di andare molto spedito Ma se volete approfondire ogni argomento Qui sotto in descrizione potete trovare una montagna di risorse Quindi mi raccomando, dateci sempre un occhio Ora, come vi dicevo prima, la prima tipologia di investimento Nella quale ho meno capitale sono le piattaforme di peer-to-peer lending Per spiegarle semplicemente Qui si vanno a fare prestiti a persone o aziende E si ottiene un tasso di interesse La prima piattaforma nella quale investo si chiama Cryptalia Qui ho questo capitale e ho ottenuto questi interessi Poi se volete di questa piattaforma ci ho anche fatto una recensione La seconda piattaforma nella quale investo si chiama Bondora Qui ho questo capitale e ho ottenuto questi interessi nel corso degli anni E proprio oggi, in questo momento, ho appena depositato una piccola cifra per provare Recruit Una piattaforma di peer-to-peer lending dedicata all'immobiliare Che mi sembrava interessante e volevo provare Poi ovviamente se vi iscrivete nei prossimi mesi Vi farò sapere come sta andando quell'investimento Comunque, in questo momento il peer-to-peer lending pesa il 6,1% del mio portafoglio investito E rispetto agli ultimi mesi, dato che i mercati cripto ed i mercati finanziari sono in contrazione È in aumento di mezzo punto percentuale Cosa ottima perché in futuro il mio piano è quello di portare questa percentuale attorno al 7% Detto questo, è il momento di passare alla seconda porzione del mio portafoglio Il mondo cripto Che in questo momento occupa il 6,6% del mio portafoglio E come vi avevo già detto a luglio, della parte cripto avevo già fatto cash out E stavo valutando quando riniziare il mio piano d'accumulo Cosa che ho riniziato proprio ad inizio dicembre Ed attualmente, per darvi dati, sto accumulando 1100 dollari a settimana 85% su Bitcoin, 15% su Ethereum Ed in realtà questo 6,6% in grande abbondanza È rappresentato da Stable che tengo pronte per gli acquisti settimanali Comunque, il target a due anni è portare questa parte del portafoglio al 15% Poi, se vi dovesse interessare, per gli acquisti sto usando il solito Binance E in aggiunta ho iniziato ad utilizzare OKEx per diversificare la cosa Dopo gli ultimi scandali che tutti conoscete bene Comunque l'intento è poi prelevare mensilmente le cifre acquistate e detenerle su wallet Piccola parentesi, in questo momento se dovesse interessarvi OKEx Loro stanno facendo una promozione veramente folle Hanno dei bonus fino a 10.000 dollari Una volta che vi sarete iscritti avrete depositato almeno 50 dollari Io qui in descrizione vi lascio il mio link in vita un amico per partecipare a questa promozione Voi, se siete interessati, approfittatene finché potete Perché promozioni così non sono da tutti i giorni, soprattutto in questo periodo Sottolineo e ricordo comunque Utilizzate gli exchange crypto con consapevolezza Magari per la comodità e le basse commissioni di acquisto e vendita Non pensate però che siano salvadanai o conti correnti Not your keys, not your crypto Passando ai mercati finanziari, facciamo una bella carrellata crescente di tutti i miei portafogli Oltre a Money Farm che vi ho nominato all'inizio, che comunque facciamo ripassare Il mio secondo portafoglio in ordine di grandezza è su Newtmeg Un Robo Advisor che ho aperto per il conto Lifetime ISA Che mi ha permesso di avere dei bonus dal governo inglese quando ero residente lì Se volete lo approfondisco nella mia dichiarazione dei redditi di qualche anno fa Comunque ora mi trovo in questo stato in profitto di più di 2.000 sterline E questo numero rispecchia il mercato che mi premia dato che ho iniziato ad investire a marzo del 2020 Dopodiché il terzo portafoglio in ordine di grandezza è su Trading212 Ed è una torta a tema tecnologico che ho creato ed approfondito in questo video In realtà questa torta da quel video l'ho modificata e ho fatto qualche aggiunta Magari ne andremo a parlare in futuro Ora in ogni caso vi faccio scorrere la composizione Ed in questo momento questo portafoglio è sotto del 9,21% Qui però sto accumulando quindi i risultati li devo tirare tra qualche anno Per il momento mentre il mercato scende io sto mediando a ribasso e continuo ad acquistare Andando avanti il terzo portafoglio in ordine di grandezza è un conto AISA che avevo aperto quando ero residente in UK Sempre su Trading212 Ed al suo interno ho queste posizioni relative ad un piano d'accumulo che portavo avanti quando ero residente in UK Comunque se volete approfondire Trading212 io ci ho fatto una recensione Sinceramente trovo che abbiano un gran servizio ed in descrizione se volete provare questo broker Trovate il mio link invita un amico che vi permette di avere un'azione gratis del valore fino a 100€ Una volta che avrete aperto un conto con Trading212 Ultimo portafoglio il più grande in assoluto che ho aperto dopo aver cambiato residenza ed essermi trasferito a Dubai È quello su Interactive Brokers dove ho un piano d'accumulo su due ETF Uno che replica l'indice MCI World sui mercati sviluppati di Lixor Uno invece sui mercati emergenti di iShares Oltre a tutte le altre posizioni che vedete in portafoglio Ora come ora e lo avrete visto su ogni mio portafoglio La situazione non è rosea ma questi sono i mercati Ed in momenti come questo l'unica cosa da fare è continuare a studiare, continuare a migliorarsi Capire e valutare eventuali errori E senza panico confidare nei mercati che pur sempre hanno avuto uno storico positivo In ogni caso i mercati finanziari rappresentano l'87,3% del mio portafoglio E sinceramente nel prossimo futuro il mio obiettivo è iniziare a diversificare il mio portafoglio con altri asset Sto sempre di più valutando l'immobiliare Più che altro al di là dell'investimento e dell'eventuale redditività Lo sto facendo anche per puro interesse personale Comunque considerate che quello che state vedendo è solo una parte del mio patrimonio Oltre a tutto questo ho liquidità in dollari sterline euro e rubli Circa 10.000 euro in oro e altri investimenti alternativi come oggetti da collezione E start up acquisite in crowdfunding In futuro effettivamente sarebbe interessante andare ad elencare esattamente ogni cosa Così volendo da misurare il mio patrimonio Magari iscrivetevi e lo facciamo Ah poi se mai lo faremo sarà curioso andare a misurare tutte le mie attività Come il mio canale youtube e tutte le altre fonti di reddito Lo segno e nel 2023 vedremo questo video Comunque parlando di progetti futuri per concludere questo video immenso Ovviamente continuerò a gestire e condividere l'andamento di tutte le mie attività e dei miei investimenti Sto anche pensando di creare mensilmente un pdf relativo a tutto questo Però prima di partire voglio avere le cose completamente chiare Voi magari se mai lo dovessi fare iscrivetevi alla mia newsletter La trovate in descrizione Se volete essere i primi a ricevere ogni novità Poi importante vi ricordo che mancano pochi giorni alla chiusura dell'offerta Per chiunque voglia partecipare al percorso di un anno Per imparare a fare trading online in modo profittevole Con Luca di Scacciati di investire.biz Tra l'altro imparare e portare a termine questo progetto È uno dei miei obiettivi per il prossimo anno E se anche voi volete unirvi affrettatevi Perché in questo momento il prezzo è scontato E poi andrà a salire Detto questo tra pochi giorni parto per la Siberia Se volete vedere che combino lì con meno 30 gradi Date un occhio al mio Instagram Ovviamente se avete domande o suggerimenti Lasciatemi qui sotto E noi ci vediamo alla prossima avventura Ciao a tutti ragazzi